Se non è un record di sanzioni, poco ci manca. La polizia stradale di Piacenza ha fermato, multato e denunciato un camionista perché trasportava irregolarmente rifiuti di plastica e di ferro. È accaduto a Caorso nel corso di un normale controllo. La pattuglia ha accertato che all'interno di un autocarro di proprietà e condotto da un uomo di 50 anni di lecco, erano trasportati rifiuti non pericolosi, senza però che il materiale fosse accompagnato dal prescritto formulario identificativo indicante il produttore o il detentore, il trasportatore ed il destinatario dei rifiuti. Dopo aver proceduto alla contestazione amministrativa, che prevede la sanzione in misura ridotta di 3.100 euro, spiega la polizia stradale, il conducente del veicolo è stato denunciato per il trasporto di rifiuti senza la preventiva iscrizione all'albo, vale a dire per trasporto abusivo di rifiuti. Nel corso del controllo è inoltre emerso che il veicolo non era stato sottoposto alla prescritta visita di revisione, né era coperto da assicurazione obbligatoria, pertanto è stato sottoposto a sequestro amministrativo ed il conducente è stato sanzionato. Complessivamente a carico del camionista sono state contestate 8 violazioni per un importo complessivo di 4.529 euro.